In questa video guida parliamo di stampanti 3D economiche. Vedremo cosa considerare per scegliere il miglior prodotto. Le stampanti 3D permettono di mettere in atto la cosiddetta produzione additiva, che altro non è che la creazione di oggetti sovrapponendo vari strati di materiale gli uni sugli altri. Esistono vari modelli di stampanti 3D. I modelli più semplici sono aperti, mentre quelli più complessi sono chiusi, solitamente tramite una struttura in metallo, e posseggono numerosi sensori che permettono alla stampante di lavorare con maggior precisione. Le stampanti 3D domestiche, solitamente, sono alimentate attraverso filamenti composti da materiali plastici. Alcune stampanti, però, possono utilizzare anche altri materiali per stampare in 3D gli oggetti che desideriamo. Online sono presenti tantissimi progetti gratuiti pronti per essere stampati.